Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In primo piano ovviamente ancora il maltempo, la neve, il ghiaccio, le temperature polari, nonostante queste ultime ore siano delle ore di tregua. Emergenza, neve, tante le difficoltà soprattutto per i comuni dell'entroterra. La protezione civile ha operato su tutto il territorio per dare sostegno alle amministrazioni più in difficoltà. Ma dopo una piccola tregua viene annunciata una nuova ondata di maltempo per le prossime 36 ore. Francesca Romana Testi. Un weekend all'insegna delle emergenze e degli interventi su tutti i comuni messi in difficoltà da neve e ghiaccio. Località isolate, problemi di fornitura elettrica e difficoltà di approvvigionamento a causa dello stop per i mezzi pesanti. La protezione civile abruzzese stila un resoconto delle ultime 48 ore e lancia una nuova allerta per l'arrivo di una nuova ondata di maltempo. Un weekend all'insegna di diverse criticità che al momento sono state tutte superate, inclusa anche quella del tema della viabilità, almeno nella tarda serata di ieri si è un po' tornata alla normalità, agevolati anche dall'aumento leggero ma ancora che sensibile delle temperature. Il problema è che comunque siamo ancora in allerta meteo, anzi per il pomeriggio, tanto pomeriggio e serata si prevede una ripresa delle precipitazioni e un contestuale abbassamento delle temperature, ciò ovviamente non può farci dormire da soli tranquilli, quindi noi, le province, tutte le strutture preposte, la salvaguardia con l'umidità delle persone, sono in stato di massima allerta. Quali sono state le difficoltà? Si è parlato di interruzione del servizio elettrico, si è parlato anche di difficoltà per quanto riguarda il rifornimento idrico oggi, qual è il quadro? In talune zone d'Abruzzo abbiamo dovuto riscontrare purtroppo questa ormai quasi latente situazione delle linee elettriche, parlo dell'alto vastese in particolar modo, ma anche dell'alto sangue per quanto attiene il tema della viabilità, su cui credo gli enti proposti dovranno agire in maniera più puntuale e soprattutto al passo con i tempi e con le emergenze che ormai possono davvero prevedersi come sono state previste in questa occasione. C'è stato ieri in tarda serata il Codice Rosso, si transita oggi regolarmente sull'autostrada 14 in Abruzzo e in Molise, il divieto temporaneo per i mezzi pesanti era stato disposto nel tardo pomeriggio ieri, dopo che sulle due regioni aveva ripreso a nevicare intensamente. In serata il miglioramento delle condizioni meteorologiche aveva consentito di riaprire l'autostrada anche ai mezzi pesanti. Il tratto interessato dallo stop ai tir era quello tra Poggio Imperiale e Pescara Sud in direzione nord e tra Giulianova e Vasto Sud in direzione sud. Particolari criticità si sono registrate nei giorni scorsi nell'entroterra vastese, situazione ora in leggero miglioramento nelle ultime ore con i vigili del fuoco che si occupano anche dell'approvvigionamento di viveri e medicine. Liberati quasi tutti i tir che erano rimasti bloccati sulla Trignina. E l'entroterra vastese è l'angolo d'Abruzzo più colpito dalle nevicate e dalle temperature polari di questi giorni. Situazione estremamente difficile a Schiavi d'Abruzzo, Castiglione, Messerremondo e Torre Bruna. In diversi tratti la neve è caduta, superato i due metri e le temperature nel corso della notte sono scese fino al meno 12. I comuni sono stati per tre giorni anche isolati finché la terria principale di collegamento, la statale Trignina, non è stata liberata dalla neve anche se poi resta difficoltosa la transitabilità delle strade che dalla Trignina portano i paesi. Tuttavia nelle ultime ore è stato possibile soccorrere e dare conforto agli anziani, mentre molti cittadini si sono dovuti armare di pala per liberare dal muro bianco di neve gli accessi alle proprie abitazioni e garantirsi una via d'uscita. Al momento nessun paese è isolato ma i vigili del fuoco stanno fronteggiando con tutti gli uomini e i mezzi le continue richieste di aiuto per il trasporto dei dializzati in ospedale e per l'approvvigionamento di viveri e medicine. I sindaci dell'Alto Vastese hanno avvertito la prefettura e hanno richiesto a breve un incontro con la provincia di Cheti per discutere di come gestire eventuali future ondate di maltempo evitando ritardi nella macchina organizzativa che hanno destato la rabbia di diversi cittadini. Intanto scuole chiuse non solo oggi ma anche domani a Vasto e in diversi comuni dell'interno come Cupello, Cerenza sul Trigno, Monte Dorisio, Lentella, Palmoli, Fresa Grandinaria, San Buono, Casal Bordino, Pollutri, Scerni e Villa Alfonsina. La Polstrada di Isernia e l'Anas stanno lottando contro il tempo per rimuovere gli ultimi quattro tir bloccati sulla Trignina dalla nevicata di giovedì scorso prima che arrivi la nuova annunciata perturbazione meteorologica. Sulla statale che collega il Molise e l'Abruzzo erano rimasti bloccati 50 mezzi pesanti. Gli autotrasportatori erano stati alloggiati negli hotel di Isernia. Tra ieri sera e oggi, grazie a una task force di Polstrada e Anas, la strada è stata quasi completamente liberata dalla colonna di tir. Il maltempo ha anche indotto la chiusura odierna degli stabilimenti dei Colossi Sevel, Onda e Hidro. Attività ferme anche in tante altre aziende della Val di Sangro. E ora ascoltiamo una testimonianza diretta di uno dei sindaci proprio del comprensorio, il sindaco di Torricella, Peligna, che abbiamo raggiunto telefonicamente. La situazione adesso è sotto controllo, tutte le strade sono aperte, abbiamo avuto serie difficoltà tra venerdì e sabato, in quanto c'è stata una bufera continua di due giorni e i mezzi avevano difficoltà perché non c'era visibilità. Poi nella nottata di sabato siamo riusciti ad aprire anche le ultime contrate, dove mancava anche l'energia elettrica. Se ieri è ritornata anche l'energia elettrica, oggi abbiamo delle contrate dove manca, appunto ci sono problemi sulla rete idrica per questione di gelo. Cerchiamo di gestire le emergenze laddove ci sono delle necessità o problemi appunto per anziani malati, che insomma hanno bisogno di medicini o di cure mediche o per quanto riguarda anche problemi sul riscaldamento. Le scuole rimarranno chiuse? Le scuole rimarranno chiuse sicura oggi e domani, ma probabilmente se il tempo peggiora e rilevicherà, siamo costretti anche a chiudere ultimi giorni. L'ACA fa sapere che a Pescara nelle prossime ore si verificheranno cali di pressione dovuti ad abbassamenti dei livelli idrici dei serbatoi per sovraconsumi causati da rotture di contatori. Le zone principali interessate dai cali di pressione saranno via Tirino dall'incrocio di via San Marco a quello per via Sandonato, poi via Volta, via Tiburtina fino alla rotonda dell'aereo, poi via Stradonetto, via Raiale, via Terno e tutte le vie limitrofe. Questo per quanto riguarda la città di Pescara. Più in generale sul fronte ACA più di 1200 interventi sono stati realizzati finora. Il personale ha lavorato 24 ore su 24 anche durante il weekend. L'emergenza neve continua a tenere impegnati i tecnici dell'ACA dalle primissime ore del 6 di gennaio. Un'emergenza che non accenna a finire. Le maggiori criticità si sono registrate nei comuni di montagna, nelle zone collinarie. I maggiori disagi si sono verificati per la rottura dei contatori e delle tubazioni idriche. Il gelo ha causato il blocco dell'erogazione dell'acqua anche senza che vi fossero verificate rotture. Per le prossime ore l'ACA consiglia ai cittadini di segnalare guasti e disagi al call center, in particolare ai numeri 800 800 838 e 800 890 541. Poi si possono usare anche il numero fisso 085 4178200, il numero di fax 085 4156113 oppure segnalazioni via mail a callcenter.tecnico.h.pescara.it. E poi ancora l'ACA fa sapere che è necessario che l'utente sappia per evitare rotture da gelo che è tenuto a proteggere i contatori. Si consiglia ai proprietari di seconde case di controllare lo stato dei contatori e delle tubazioni perché si possono registrare perdite e conseguenti allagamenti. Restiamo nel Pescarese facendo il punto della situazione sul fronte maltempo chiaramente con il presidente della provincia Di Marco. Una provincia messa a dura prova dall'ondata di maltempo iniziata giovedì scorso. Un lavoro incessante per i comuni che hanno dovuto provvedere a interventi su strada e richieste di aiuto dei cittadini. 33 i coca attivati nella regione, scuole chiuse nella giornata di oggi e dopo una tregua iniziata nel pomeriggio di domenica si attende una nuova ondata di maltempo. Una situazione critica soprattutto nel versante della Maiella dove ancora a Rocca Caramanico o a Passo Lanciano abbiamo delle situazioni ancora da monitorare ma evidentemente un po' su tutta la provincia anche nell'area Vistina, Farindola, Penne, Città Sant'Angelo per esempio ma anche comuni più collinari che non sono abituati certamente ad avere la neve che hanno avuto difficoltà anche rispetto al freddo eccessivo sotto i 10 gradi che ha congelato immediatamente la neve creando disagi notevoli alle avviabilità e soprattutto al traffico. Noi contiamo di superare questa emergenza nelle prossime 24-36 ore se la perturbazione rimane quella attuale se dovesse peggiorare certamente dovremo attivare ulteriori procedure di intervento e chiediamo a tutti di avere massima cautela e soprattutto di non azzardarsi con le macchine non uscire se non lo si è obbligati ma solo per necessità particolari. E comunque per le scuole anche la giornata di domani martedì noi chiuderemo tutti gli istituti superiori perché abbiamo la consapevolezza di dover verificare anche gli impianti di riscaldamento il sistema della tubazione delle acque e quant'altro. Il Santufino e Maiella ma anche Caramanico Terme abbiamo anche qualche difficoltà segnalata all'ettomanoppello abbiamo anche difficoltà diciamo riguardanti la realtà di Roccamorice insomma tutte quelle realtà che poi fanno il paio con l'area vestina quindi Civitella Casanova Carpineto dell'Anora, Montebello di Bertona, Farindola insomma sono tutte quelle realtà che hanno diciamo in questo momento quantità nevose superiore a un metro. E a Rosetto degli Abruzzi il sindaco di Girolamo comunica la riapertura delle scuole per domani martedì 10 gennaio nel territorio comunale però per evidenti ragioni di tutela della sicurezza dei bambini non sarà effettuato il servizio scuolabus fino al 12 gennaio compreso. E ora lasciamo la pagina ampia dedicata al maltempo andiamo all'Aquila, la scossa di 3.4 registrata nella notte poco prima del luna fa tornare la paura tra i cittadini aquilani la sequenza sismica di Monte Reale preoccupa e non poco gli esperti. Daniela Rosone La terra nell'Aquilano continua a tremare nella zona di Monte Reale soprattutto dove ormai si susseguono le scosse di terremoto da tempo e dove la popolazione è stremata del resto lì si parla di una faia esistente, di una zona d'alta pericolosità sismica fatto sta che ieri ci sono state molte scosse ma quella che ha spaventato di nuovo gli aquilani nella notte dieci minuti prima del luna un boato e una botta forte e chiara che ha svegliato tutti all'Aquila e paesi limitrofi e subito il solito ormai noto tantan sui social che di nuovo si sono riempiti di considerazioni circa questo terremoto che va avanti ormai da tempo la magnitudo registrata dai sismografi degli NGV è stata di 3.4 anche se inizialmente alcuni siti avevano riportato regionalmente 4.2 l'epicentro è stato localizzato nel popoloso comune di Pizzoli a una profondità di 11 km la scossa nella notte è stata decisamente la più forte registrata sinora nella zona dopo i terremoti di Amatrice di fine agosto e quello di fine ottobre di Norcia il terremoto di ieri sera è stato avvertito come dicevamo distintamente all'Aquila ma anche in molti comuni del circondario come ad esempio Scoppito e altre frazioni dell'Aquilano come Sassa è da tempo ormai che questa zona è interessata da scosse a Montereale ad esempio molte sono le famiglie che si sono organizzate per non dormire in casa ieri si sono registrate almeno 4 scosse tra Pizzoli e Montereali superiore a magnitudo 2.6 nell'Aquilano dove la popolazione subisce ancora le conseguenze del terremoto del 2009 complice anche la neve e il gelo tutti o quasi hanno preferito non uscire dalle proprie abitazioni Incarichi incompatibili quelli ricoperti da Luciano D'Amico contemporaneamente rettore dell'Università di Teramo e presidente di TUA a dichiararlo dopo la denuncia di Forza Italia anche il presidente dell'autorità anticorruzione Cantone Una nomina non compatibile è quella del magnifico rettore dell'Università di Teramo Luciano D'Amico nominato presidente dell'azienda di trasporto unica abruzzese TUA a denunciare pubblicamente il fatto il deputato di Forza Italia Fabrizio Di Stefano che dal 2015 si era mosso per segnalare il caso all'allora ministro all'istruzione Stefania Giannini nessuna azione da parte della ministra che rimandò al governo regionale l'onere di risolvere la questione dal canto suo Luciano D'Amico aveva reso noto di non percepire compenso per il suo operato dopo due anni a pronunciarsi è stato il presidente dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone che ha confermato l'incompatibilità degli incarichi Io avevo fatto a suo tempo un'interrogazione e successivamente un'esposto non contro la persona ma contro il caso specifico che era a mio avviso illegittimo ma lo stesso avevo fatto e sto aspettando gli esiti anche per la situazione del presidente della saga Mattoscio perché la legge recita chiaramente per poter ricoprire un incarico anche a titolo gratuito in un'interregione come quello della legione un docente universitario non deve essere a contratto pieno ora per fare il professore ordinario e quindi il rettore lo statuto dell'università ma di qualunque la legge in generale recita che per fare ricoprire un incarico di rettore o di presidente di consiglio di amministrazione o di qualunque incarico apicale si può ricoprire esclusivamente se si è docenti ordinari a tempo pieno di conseguenza le due norme cozzano l'avevo fatto presente, il ministero mi aveva glissato sull'argomento ne aveva fatto oggetto di un esposto agli organismi competenti oggi vediamo questa risposta chiara del commissario Cantone e a questo punto settimana prossima torneremo a interrogare nuovamente il ministero per capire che cosa vorrà fare nello specifico è terminato intorno a mezzogiorno di questa mattina lo spoglio delle schede per l'elezione del nuovo consiglio provinciale di Teramo vittoria del centro-sinistra che si aggiudica 7 seggi su 12 ma c'è un altro dato politico che balza agli occhi dei 28 consiglieri comunali di Teramo che hanno votato ben 13 di questi hanno scelto il centro-sinistra e si torna a parlare di crisi in comune Tania Bonnici Castelli Lo spoglio delle schede per l'elezione del nuovo consiglio provinciale di Teramo si è appena concluso gli ultimi conteggi sono in via di definizione ma il primo dato che emerge è la vittoria schiacciante del centro-sinistra che si aggiudica almeno 7 consiglieri su 12 le liste che hanno partecipato sono state 3 forza del territorio di centro-destra che legge 5 consiglieri direzione futuro del PD che se ne aggiudica 2 e la casa dei comuni lista di centro-sinistra che fa capo al presidente Renzo Di Sabatino che ne porta a casa 5 a queste elezioni di secondo livello Teramo ha votato oltre l'88% degli aventi diritto ma a questo punto ci si chiede quale sia il futuro e il ruolo delle province dopo il no al referendum costituzionale il futuro delle province la riforma costituzionale non è stata approvata vige la costituzione repubblicana l'articolo 114 articola lo Stato in province, regioni e comuni di pari dignità quindi le province non potranno essere questo obrobrio creato dal rio volevamo abolirle, non le abbiamo abolite il popolo non ha voluto abolirle e quindi bisogna ritornare a fare le province di prima il problema è la governance il problema è creare un'architettura che sia governata che possa rispondere al territorio un consiglio provinciale che conti e delle attribuzioni e delle risorse anche perché oggi le province vivono anche con l'attesa dell'abolizione costituzionale vivono anche di tagli enormi e riescono a malapena a portare avanti i bilanci ordinari ci sono comunque più dati politici che emergono dai risultati delle elezioni del consiglio provinciale di Teramo intanto quello interno al centro-sinistra che vede la lista del PD di Ginoblo e Mariani ottenere molti meno voti di quella che fa capo al presidente di Sabatino e poi c'è una mini debacle per il centro-destra al comune di Teramo su 28 consiglieri comunali che hanno votato 13 di questi hanno scelto il centro-sinistra e ora ci spostiamo al comune di Pescara il centro-destra oggi in conferenza stampa ha ribadito di aver lasciato i conti in ordine riferendosi agli oltre 4 milioni di euro indebitamente trattenuti dallo Stato nel 2013 ora si chiede il rispetto della sentenza della Corte Costituzionale che stabilisce la restituzione dei fondi Nessun buco di bilancio il disavanzo del 2013 alla base della richiesta di predissesto del comune di Pescara è da debitare alla scelta del governo allora guidato da Enrico Letta di trattenere indebitamente oltre 4 milioni di euro i consiglieri di Forza Italia assieme all'ex sindaco del capologo adriatico Luigi Albore Mascia rivendicano la bontà del loro lavoro sui conti prendendo spunto dalla sentenza della Corte Costituzionale datata giugno 2016 che ha giudicato illegittimi i prelievi da parte dello Stato nei confronti dei comuni da qui la considerazione sulle conseguenze nefaste che quel prelievo unito agli oltre 7 milioni di euro di mancati rimborsi da parte di Roma per la gestione del Tribunale Pescarese ebbe sulle casse del comune noi lo abbiamo detto per tre anni ma ufficialmente oggi è lo stesso centrosinistra a chiedere al Ministero delle Finanze e quindi allo Stato italiano la restituzione di 4 milioni e 800 mila euro proprio riferibili a quell'anno 2013 per minori entrate del comune che generarono in maniera sorprendente quel disavanzo di 4 milioni di euro se quei 4 milioni e 800 mila euro che oggi Alessandrini richiede allo Stato italiano fossero arrivati nelle casse come dovevano arrivare noi avremmo chiuso quel bilancio con 600 mila euro di avanzo dal canto suo l'amministrazione di centrosinistra ha già inoltrato la richiesta di rimborso di quelle somme la giunta Alessandrini però non ha iscritto a bilancio i soldi per l'abbassamento delle tasse e il rientro dallo Stato di predissesto bisognerà ancora attendere era un'esigenza in quel momento dell'amministrazione devo dire che già l'anno scorso qualcosa abbiamo ritoccato quest'anno non saremo in grado di ridurre ulteriormente le tasse ai cittadini però sicuramente queste tasse non aumenteranno e ora alla pagina dello sport parliamo di Serie A e di Pescara che ieri non ha giocato la partita con la Fiorentina rinviata a causa del maltempo la squadra è tornata già questa mattina al lavoro mentre il neoattaccante Alberto Girardino è arrivato al centro sportivo Poggio degli Olivi intorno a Luna dunque non si è allenato con la squadra lo farà da solo nel corso del pomeriggio e domani mattina invece si allenerà con la squadra problemi in mattinata per il neodifensore Cesare Bovo problema alla caviglia ed il giocatore dunque è in dubbio per la gara che sarebbe quella del debutto personale di domenica prossima in casa del Napoli intanto il servizio di Paolo Renzetti primo giorno da Biancazzurro per il 34enne attaccante Alberto Girardino che dopo aver lasciato l'Empoli si è accasato in Riva all'Adriatico dove resterà fino al prossimo 30 giugno per il bomber campione del mondo 2006 ed ex compagno di Massimo Oddo al Milan dovrebbe esserci già domenica all'esordio nella gara del San Paolo contro il Napoli l'arrivo dell'attaccante di Biella potrebbe però non essere l'ultimo colpo in attacco anche se con la conferma in vista per Jean-Christophe Baybec oggi sarebbero già tre gli attaccanti centrali a disposizione considerando anche la presenza in organico di Alberto Cerri definito dai Biancazzurri anche l'arrivo del ventenne centrocampista Andres Cubas che si metterà nelle prossime ore a disposizione del trainer pescarese ma la società del presidente Daniele Sebastiani a dispetto di una situazione di classifica sicuramente complicata non vuole fermarsi sono infatti in addirittura d'arrivo anche altre operazioni in entrata come quelle con la Juventus per il prestito del 21enne Federico Mattiello e di Rolando Mandragora e in questo caso si tratterebbe di un gradito ritorno per il centrocampista di origine campana a Pescara Dario Zupari c'è stato invece ceduto in prestito ai turchi del Casimpasa in partenza anche Norbert Gionberg che tornerà alla Roma Manai rientrerà all'Inter mentre dovrebbero lasciare Pescara Pettinari che ha richieste dalla Serie B e il giovane Vitturini che piace a Ternara e Virtus Entella intanto nel pomeriggio è attesa la decisione del collegio di garanzia del CONI sul ricorso del Sassuolo per 0-3 a tavolino della gara del MAPEI Stadium con i biancazzurri che persero sul campo per 2-1 e con i neroverdi che furono puniti dal giudice sportivo per l'utilizzo irregolare del giocatore tra l'altro ex pescarese Antonino Ragusa Scendiamo in Serie D l'unica squadra abruzzese in campo è stata l'Aquila che ha perso seccamente a Monterosi nel big match di giornata 3-1 per la compagine viterbese vediamo Polari per il big match della prima giornata di ritorno il Monterosi lancia Matusalemme dal primo minuto esordio per Peluso in casa Aquilana Martoni tutto esaurito per l'occasione nonostante il freddo la partita inizia al minuto 8 fanasca larga per Palumbo cross tagliato dell'esterno per Pippi anticipato di un soffio il brasiliano però timbra il cartellino al minuto 11 contropiete del Monterosi lancio di Matusalemme per Palumbo che offre un assist delizioso all'attaccante biancorosso il quale deposita in rete la palla dell'1-0 scontro di gioco al quindicesimo tra Tagliaferri e Sieno alla peggio il giocatore Aquilano costretto ad uscire dal campo sostituito da Esposito al 32esimo clamorosa occasione per il raddoppio per il Monterosi punizione di Matusalemme che trova Salvatori solo in aria il sinistro del difensore trova pronto Farroni nell'angolo successivo fanasca non impatta bene la palla ma il Monterosi fa male e dal 33esimo ruba palla a centrocampo Pippi serve fanasca che questa volta fulmina Farroni 2-0 e Martoni in tripuglio l'Aquila tramortito dal doppio vantaggio prova a reagire con un tiro dalla distanza di Gagliardini al 39esimo ma Mazzoleni si fa trovare pronto ed alza la palla sopra la traversa il portiere biancorosso però non la può sulla punizione di Peluso che al 44esimo indovina una parabola che accorcia le distanze e riapre i giochi il portiere biancorosso però non la può sulla punizione di Peluso che al 44esimo indovina una parabola che accorcia le distanze e riapre i giochi le emozioni del primo tempo non finiscono perché al 47esimo Matusalemme mette in mostra tutte le sue qualità imbocata verticale Palumbo si avventa sulla palla e brucia sul tempo Farroni e si conquista il calcio dei rigori sul dischetto Pippi si fa neutralizzare la conclusione ma sulla respinta il brasiliano è più lesto di tutti ad insaccare del 3-1 si va a riposo nella ripresa Mini Cleri dopo due minuti prova a sorprendere di testa Mazzoleni ma la palla è alta al terzo Pippi avrebbe messo a segno la personale tripletta ma per la terna è fuori gioco al minuto 8 Mazzoleni fa un autentico miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Gagliardini e sull'angolo seguente l'Aquila ancora vicino alla rete la formazione di Morgia però pericolosa solo sui calci piazzati al quindicesimo del secondo tempo nuova rete annullata al Monterosi con Fanasca fermato in posizione di offside al sedicesimo Peluso ci riprova da calcio piazzato ma Mazzoleni oggi è strepitoso al trentunesimo Piro appena entrato in campo sfiora il colpo del definitivo K.O. ma è bravo Farroni a respingere al minuto 38 debutto nel Monterosi per il neoacquisto Siviglia che dà il cambio ad un Fanasca esausto Stanley Goveshion poi al quarantatresimo per Matusalem oggi veramente uno dei migliori in campo al suo posto Davide Buono tre minuti di recupero ma il Monterosi gestisce splendidamente il vantaggio finisce 3 a 1 e Biancorossi in testa alla classifica in virtù del pareggio imposto dal Trestin a Rieti l'Aquila torna a casa a testa bassa e fa i complimenti ad un avversario oggi nettamente superiore e nell'altra gara di un abruzzese nel girone G al De Marsi Avezzano Sansepolcro è stata rinviata questa partita per impraticabilità del campo l'ha deciso il direttore di gara proprio nell'ora fissata per l'inizio della partita ascoltiamo le parole del presidente dell'Avezzano Paris Presidente Paris un rinvio inevitabile quello di oggi con il Sansepolcro campo ghiacciato sarebbe stato un rischio per i giocatori quindi decisione giusta anche se è arrivata con qualche secondo di ritardo probabilmente beh sì è stata una scelta dell'arbitro che con le scarpe civili non aveva capito la pericolosità del campo quindi del ghiaccio una volta che ha messo il tacchetti scivolando anche lui pensava soltanto che fosse ghiacciata la fascia sotto la tribuna pietra acquaria e infatti se così fosse stato la partita si sarebbe giocata perché rappresentando un ottavo della grandezza del campo si poteva appunto disputare l'incontro quando invece si è accorto che il ghiaccio era esteso per tutto il rettangolo di gioco allora ha convenuto con i due capitani Presidente un rinvio che non cambia nulla per l'Avezzano l'Avezzano che vuole disputare un girone di ritorno sicuramente facendo meglio di quanto è stato fatto nel girone di andata l'obiettivo è cercare di acciuffare i playoff l'obiettivo è fare 10 punti in più del girone di andata quindi dai 25 mesi nel cantiere di questo campionato farne 10 in più quindi se riusciamo a fare 35 punti arriveremo al termine del campionato con 60 punti e non so che posizione riusciremo a raggiungere con quel tipo di punteggio Chiuso il mercato dopo gli arrivi dei vari Marolda Assisi che doveva esordire oggi? Beh sì chiuso 5 giocatori nuovi ne sono andati via soltanto 2 adesso abbiamo una panchina lunga che ci consente di fare un grande lavoro e che ovviamente mi auguro che serva poi per una maggiore continuità e per dare forza al progetto A proposito di arrivi prossimamente verrà presentato un nuovo main sponsor perché da qualche giorno non c'è più l'azienda Sterpetti al vostro fianco Sì abbiamo risolto il contratto e ci sarà probabilmente un'altra azienda sempre del territorio importante o nello stesso settore delle vendite delle auto oppure un'azienda edile È tutto per questa prima edizione del TG6 per ulteriori aggiornamenti in particolare sul fronte del maltempo vi rimando alle prossime edizioni del nostro notiziario alle ore 19 e alle ore 23 Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata